E come vi anticipavo vogliamo parlare ora di città più e meno care d'Italia. Quali sono i fattori che contribuiscono a rendere la vita migliore o peggiore dal punto di vista dei costi nelle città italiane. Per approfondire queste tematiche abbiamo in collegamento video Skype Mauro Antonelli, che fa parte dell'Unione Nazionale dei Consumatori, di cui spesso parliamo attraverso diverse finestre dedicate alla tutela dei consumatori. Intanto buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Gli ultimi dati dell'Istat ci parlano ancora una volta dell'inflazione e del costo della vita. Quali sono i dati salienti che emergono da questa ricerca? A livello nazionale c'è un leggero calo dell'inflazione dovuto soprattutto al calo del prezzo del gas. Noi sappiamo che le cause dell'inflazione, ormai un anno e mezzo a questa parte, è il gas e poi anche la luce, perché è la luce collegata al prezzo del gas, anche perché molta elettricità viene prodotta attraverso le centrali a gas, e poi il costo della benzina. Questi beni energetici hanno scatenato l'inferno e quindi in qualche modo anche per speculazioni legate alla guerra in Ucraina, questo è il motivo principale per cui essendo i beni energetici un costo di produzione per tutte le imprese e la benzina e il gasolio, un costo di trasporto per tutte le imprese, le imprese cosa hanno fatto? Nel certo punto hanno traslato questi prezzi maggiori sulle famiglie e da qui è scatenata l'inflazione, che però è leggero calo nei mesi di gennaio, 10%, proprio perché essendoci stato l'inverno più mite in Europa di sempre, non c'è stata un'altra domanda del prezzo del gas, le riserve sono ancora elevate e quindi non abbiamo dovuto ricorrere al famoso mercato di Amsterdam, al famoso TTF, e quindi gli speculatori non hanno potuto speculare come hanno fatto nel mese di agosto dove dovendo fare incette di gas per fare le scorte, ahimè abbiamo avuto il record assoluto del gas. A livello invece di città, ovviamente l'inflazione media è il 10%, ma è la famosa media del pollo di Trolussa, perché poi ogni realtà a livello regionale e poi a livello di città è diversa, quindi ad esempio per quanto riguarda il gas, non è aumentato tutto allo stesso modo, ad esempio a Potenza e in Basilicata è aumentato molto poco, in altre realtà invece è aumentato di più. A parità di inflazione, poi questa classifica tiene conto del fatto che noi calcoliamo, incrociamo i dati dell'inflazione con la spesa dei consumi di quella città. Ovviamente più una città è ricca e c'è un maggiore reddito disponibile da parte delle famiglie, maggiore è la spesa per consumi. Quindi da anni in testa a questa classifica c'è Bolzano. Bolzano ha un'inflazione del 10,4, quindi appena superiore rispetto alla media nazionale del 10%, assai inferiore rispetto al record che spetta invece come inflazione a Catania 12,6%, ma incrociando i dati della spesa di una famiglia di Bolzano, alla fine la stangata è pari in media per una famiglia di Bolzano a 2.764 euro, che sale addirittura per una famiglia di tre persone a 3.647, mentre Catania che è settima soltanto nella posizione di questa top 10 delle città più rincarate, nonostante abbia l'inflazione più elevata, ma lì anche il livello della vita era normalmente più basso, perché noi ricordiamoci che l'inflazione aumenta il costo della vita, ma conta molto anche il costo della vita da cui si parte. Quindi al sud normalmente la vita è un po' meno cara rispetto al nord. Il risultato finale è che questa inflazione del 12,6 si traduce per una famiglia di Catania in una stangata di 2.501 euro contro i 2.764 di Bolzano. La classifica è prima Bolzano, seconda Milano, terza Genova, quarta Modena, quinta Trento, sesta Ravenna, come vi ho detto in tutte le città del nord, non perché abbiano una maggiore inflazione, ma proprio perché hanno un maggiore costo della vita iniziale, un maggiore reddito, una maggiore spesa. Poi abbiamo Catania in settima posizione, poi Bologna, Perugia e infine Brescia. Questa per la top 10 delle città più rincarate. Dall'altra parte della classifica abbiamo invece Potenza, che anche per via dei minori costi del gas ha un'inflazione solamente del 7,5%, quindi ben sotto la media nazionale del 10. Al secondo posto Potenza vuol dire comunque una stangata da 1.481 euro in media per una famiglia di Potenza, quindi comunque una spesa insostenibile, comunque anche non è una grandissima consolazione, stanno meglio rispetto a quelli di Bolzano, ma ovviamente anche loro sono in difficoltà. Al secondo posto Catanzaro, al terzo Ancona, poi Reggio Calabria, Campobasso, Napoli, Bari, Cagliari, Roma, non è posto, Trieste al decimo. Questa è la classifica delle città con meno rincari. Ecco, ovviamente il punto di riferimento di questi ultimi tempi è il costo del gas, quindi i rincari energetici sicuramente sono stati veramente fondamentali, il primo fattore che contribuisce appunto anche su queste classifiche che in questo momento ci ha evidenziato. Ma è importante anche ricordare un aspetto che è traparlato da quanto diceva qualche minuto fa, non sempre il costo della vita equivale alla qualità della vita, nel senso che laddove ci possono essere costi maggiori, la qualità della vita, grazie anche a servizi che si trovano e sono fruibili in queste città, può essere sicuramente migliore rispetto ad altre dove il costo della vita è minore. Assolutamente sì, noi non facciamo una classifica della qualità della vita, c'è una rivista famosa che lo fa e nel fare questa classifica della qualità della vita c'è sempre il costo della vita, perché anche questo cambia la qualità della vita, ma la qualità della vita può dipendere appunto dalla qualità dei servizi forniti in quella città, dall'inquinamento, maggiore o minore inquinamento, e quindi insomma ci sono diversi fattori per valutare la qualità della vita. In questo momento il costo della vita è predominante perché un'inflazione così elevata non si aveva da parecchi anni e questo significa impoverire le famiglie. Allora se le famiglie devono attingere risparmi per arrivare alla fine del mese, o peggio ancora non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese, questo è un problema per tutta l'Italia e per il Paese, perché si riducono i consumi, nel senso che i consumi ad esempio di spese non necessarie vengono rinviati. Ora dovete sapere che il prodotto interno lordo, la crescita del Paese, per il 60% è costituito dai consumi delle famiglie. Quindi noi diciamo sempre, se le famiglie non consumano i commercianti non vendono, se i commercianti non vendono le imprese non producono. Quindi o noi ripartiamo da ridare capacità di spesa alle famiglie, o non usciamo da questa situazione grave. Ecco perché la priorità dovrebbe essere questa. Allora noi speriamo intanto che il governo rinnovi i provvedimenti contro il caro bolletto di luce gas, perché ricordiamoci che nelle leggi di bilancio questi aumenti erano stati messi esclusivamente fino a fine marzo, mentre devono essere assolutamente, anche se il gas è in calo, proprio perché comunque il gas influisce sul calo dell'inflazione. E' importante che questa riduzione dell'inflazione, che è passata, non è che è calata chissà quanto, ma insomma è passata comunque dall'11,6 di dicembre al 10%, per questo calo deve andare avanti. Perché deve andare avanti? Perché anche se l'inflazione domani mattina diventasse zero, magicamente pari a zero, il livello della vita ormai avrà raggiunto una situazione insostenibile per le famiglie. Cioè la pasta è arrivata a un prezzo assolutamente esorbitante, la farina, lo zucchero, il burro hanno un costo, sono tutte spese obbligate, perché non stiamo parlando di viaggi, perché in testa alla top 10 ci sono anche viaggi aerei, perché comunque sono collegate al caro carburante, ma sono spese, salvo che uno viaggi per lavoro, ma in quel caso paga l'azienda, non sono spese che ci preoccupano. E quello che ci preoccupa è che in questo momento sono aumentati i prodotti elementari e le bollette di luce gas, cioè spese obbligate per tutti, anche per chi non ce la fa, ad arrivare alla fine del mese. Ecco perché bisogna continuare a calmirare i prezzi, perché l'inflazione si deve non solo abbassare, ma bisogna ritornare ai prezzi precedenti, cioè la pasta mi deve arrivare a costare quello che costava prima, che la trovavi a 0,59, pasta di marca, la trovavi al supermercato in offerta a 0,59 per mezzo chilo, oggi un prezzo così non si trova assolutamente più, quindi bisogna che i prezzi intorno non essere ragionevoli, e quindi bisogna andare avanti sotto questo profilo per rinnovare, diciamo così, la possibilità per la famiglia di arrivare alla fine del mese. Quindi questa è un'emergenza e bisogna assolutamente rinviare la fine del mercato tutelato, perché ad esempio purtroppo il primo aprile per la luce delle parti condominali scade il mercato tutelato e chi abita in un condominio viene discriminato rispetto a chi abita in una villa e sarà costretto a passare al mercato libero. Ora dovete sapere che è in testa la classifica degli aumenti, cioè mettendo tutte le voci dell'Istit insieme a livello nazionale, il record di aumento spetta al primo posto l'energia elettrica del mercato libero più 174,8%, cioè vuol dire che dal gennaio 2021 a gennaio 2022 è aumentata nel mercato libero del 174,8%. Al secondo posto abbiamo il gas, sempre nel mercato libero più 117,8%. Allora non possiamo obbligare le famiglie ad arricchire i venditori del mercato libero del luce gas, bisogna consentirgli la scelta. Su questo il governo deve fare un decreto d'urgenza, era un'occasione milleproria, è stato approvato non inserendo questo emendamento per risolvere questo problema, bisogna che i cittadini hanno almeno libertà di scelta su quale operatore devono usare per rifornirsi di luce gas, e non essere obbligati a passare ad un mercato che in questo momento è rincarato più del mercato tutelato. Ecco, questi sono dati sicuramente molto importanti, così come ci sarebbe poi da fare un ulteriore approfondimento, magari lo faremo anche più in là, proprio sul tema dell'aumento dei prezzi, che molto spesso non è giustificato pienamente, o perlomeno al di là di quelle che possono essere le speculazioni classiche, ecco ci troviamo di fronte anche a fenomeni come a parità di prezzo la vendita di una quantità minore di prodotto, e su questo l'Unione Nazionale Consumatori, con la sua possibilità di tutela dei cittadini, ecco offre tanta informazione, vi ricordo anche il sito internet stesso, dell'Unione Nazionale Consumatori, dei quali torneremo a parlare, come vi dicevo, più in là. Intanto ringrazio Mauro Antonelli per averci dato l'opportunità quest'oggi di parlare della classifica, di inflazione, di questioni che come vedete al di là di quelle che possono essere le percentuali, i numeri, quindi i tecnicismi, sono importantissimi e impattanti sulla nostra vita quotidiana. Allora grazie a Mauro Antonelli e buon lavoro. Grazie a voi, grazie, grazie a voi.